Ieri ho partecipato in prefettura al tavolo tecnico sulla sicurezza, alla presenza del prefetto Filippina Cocuzza e dei rappresentanti delle forze dell'ordine della provincia di Trapani. Il tavolo è stata la risposta a una sollecitazione, alla comunicazione che avevo fatto al prefetto e alle altre forze dell'ordine il 16 novembre. In occasione del tavolo ho ribadito la situazione di insicurezza, di ansia, di forte pressione in cui la comunità petrosilena si trova. Nell'ultimo periodo sono state tante, troppe le azioni malavitose sul nostro territorio, tanti furti in appartamento, furti e rapine in esercizi commerciali. Devo ringraziare la prefettura, le forze dell'ordine per l'impegno che in queste ultime settimane abbiamo visto a Petrosino e che ha portato al blitz di un paio di settimane fa e all'arresto, alla cattura di un noto pluri pregiudicato un paio di giorni fa. Ma nello stesso tempo c'è l'invito, c'è la sollecitazione a proseguire in questa direzione. Non possiamo permettere che un'intera comunità sia sotto scacco a causa di un piccolo gruppo di malavitosi locali. Auspico che l'azione sul territorio delle forze dell'ordine prosegua e invito tutta la cittadinanza a collaborare. Perché la sicurezza non riguarda soltanto le forze dell'ordine, chi si occupa per mestiere di queste cose, ma deve riguardarci tutti. La sicurezza ha a che fare anche con il senso civico. Per cui invito la mia cittadinanza a denunciare quando è possibile per aiutare le forze dell'ordine ad essere ancora più incisive e ancora più efficaci.